Buon pomeriggio, un pomeriggio un po' freddo, però è il periodo, ci dobbiamo prendere anche questo rischio, e niente, è il primo evento di questo anno, 2017, e abbiamo già il secondo di Ennio della FIDAPA con il Presidente, è una serie di iniziative molto belle, importanti, e sempre, come dico io, a servizio dell'isola di schianti, perché lo scopo dell'associazionismo è anche quello di cercare di dare qualcosa in più che da dove magari manca. E quest'anno, il 2017, l'ho voluto anche dire con un evento particolare. Prima di tutto però devo ringraziare l'amministrazione comunale di Ischia, noi abbiamo il Vice-Sindato Ennio Berandino, che ringrazio perché veramente ha dato la disponibilità di questa sala, così che ringrazio anche la Fondazione Operativa, che insomma varie volte abbia collaborato insieme. E così ringrazio anche Lucia Niceli, grazie perché è così presa cura di noi dal punto di vista logistico. E come dicevo, questo appuntamento io lo stavo preparando da tanto tempo, almeno mentalmente. Per sapere con Andrea c'è un bellissimo rapporto che è cominciato anni fa, perché siccome io lavoro alla scuola media di Forio, con lui abbiamo collaborato per diverse...